Ciao a tutti ragazzi, io sono Augusto del Pietro e l'abbiamo visto in questo nuovo video. Oggi siamo su Madagascar Escape to Africa, questa volta non per continuare il World True, ma per fare dei mini giochi. Oggi andremo infatti nella modalità Africa Arcade, faremo qualche mini gioco tra furia vulcanica, calcio, tuffi, tante cose. Prima di iniziare vi prego di lasciare like, di iscrivervi al canale. Scegliamo il mio salvataggio principale, non quello del World True, così qui abbiamo tutto sbloccato e facciamo una partita rapida. Da quale iniziamo? Ovviamente voi non potete scegliere perchè il video è preilistrato. Insomma di furia vulcanica. E tra l'altro sono anche il mio speciale 50 iscritti. dei tempi, anche se ormai non è manco passato tanto, ma vabbè. Un giocatore, scegliamo... Alex, andiamo sul classico. Allora scegliamo tra queste bellissime canzoni. Angel, tutto qualcosa normale. Ok. Se non sapete il mini gioco consiste in prendere queste bellissime palline. Più avanti nel World True lo scopriremo, questo video gioco, più o meno verso la fine. Qui al penultimo episodio, lo scopriremo. Ma comunque questo non è uno spoiler perchè non vi dico la storia dietro a questo mini gioco. Ma è molto divertente, nel senso tempo molto complicato. Ma diciamo, visto che lo faccio da un bel po' di anni, diciamo che sono abbastanza bravo. Voglio dire tutte, riesco a fare Denzelack African senza fare neanche un errore, non so più capire. Adesso un errore l'ho fatto, però... Dai, questa non è neanche Denzelack African comunque. Ma alla fine, non fare un errore, alla fine è molto raro, non è che sempre, però due o tre volte sono riuscito a finire senza fare un errore. Denzelack African. Angel invece la faccio poche volte, Denzelack African come ho detto, è la mia preferita. Se non sapete come si sblocca Angel, dovete andare nel duty free per acquistare le canzoni bonus per furia vulcanica. Perchè di default avrete sbloccato soltanto Denzelack African e Ico Ico. E il resto, le altre tre tipo Angel, non le avrete. Dovete comprarle, con i soldi, con le monete del gioco ovviamente, al duty free. E se non lo sapete, lo troverete in fondo la mappa. Comunque, stiamo andando fin troppo bene, per ora abbiamo fatto, mi pare, un errore, o due. E... beh, niente. 13, 15, 15, 17, 19, 21. Dai. No, questo è complicato. Ok ragazzi, ce l'ho fatto, ma no. Questa è la parte più difficile. Beh direi... Oh, andaci metto a caricare. Perfetto. Ci ho messo un po' troppo direi. Vediamo come l'ho vinto io. Infatti, ho vinto io. Facciamoci un'altra partita. Facciamo, questa volta ce l'hiamo Hellman. Facciamo Shango. Questa è la parte più difficile. Ma faccio, qua faccio a caso, per dico la verità. Perché è un po' complicata all'inizio. Ma devo andare a questa parte più difficile, vi giuro. Mi devo concentrare. Dai. Dall'inizio era complicato, ma anzi ho stabilizzato. Non me la ricordavo a questa canzone, perché la facevo pochissimo sulla 360, anche se era la mia preferita come canzone, ma come difficoltà per niente. Ok. Ce l'ho fatta a prendere quelli. Dubito che questa la vinco, però dai. Possibile. Diciamo che sono solo alcune parti complicate. Ringrazio i signori che mi mandano il copyright. Un po' e mi ringrazio. Mi fa molto piacere. Non solo che dentro la cannafrica nel copyright del quiz, non so seppure Shangor e Rangel. Ma non lo so. Lo scopirò, però dovrò sapere nei commenti se ho preso il copyright. Dunque quella parte difficile è riusciuto a farla, maggiormente. Sarebbe un'altra. Sarebbe un'altra. Sarebbe un'altra. Sarebbe un'altra. Ma dovremmo fare. Madonna Calma Raga troppo difficile Vediamo chi ha vinto Dai raga Ho perso Vabbè dai raga Me l'aspettavo Questa qua è difficilissima Vabbè ragazzi Cambiamo un minigioco Affiliare i piedi Partita rapida Scegliamo Calcio Dai Iniziamo Un giocatore Squadra Squadra New York Contro Squadra Madagascar Svolta normale Facciamo una bella partita 5 Perfetto Ok Ho fatto il primo goal Oh ma Mi sa che ho bugato il gioco Mi sa proprio di sì Sfruttiamolo questo bug Che do No Non lo posso sfruttare più No Lo sfrutto come Oh se vinco 5 a 0 No 5 a 0 5 a 0 Mi sa che è meglio mettere difficoltà difficile Valle dire Adesso però secondo me è troppo complicato Adesso è difficile però Facciamo una partita a tirare Che sto andando per fare Ah come dicevo era troppo complicato Dubito Come ho detto Dubito Ne dubito altamente No Stavolta non ce l'ho fatta Dai Alex Bravo che l'hai parata No Dai Alex 3 a 0 Dai Diciamo che è troppo facile per me il calcio questo qui No Ho iniziato il gioco per sbaglio Ok Scusate Non la taglio questa parte Tanto Non ridere Africa Arcade Mettiamo Finica di Melvin Dura e bollente Abbinare coppie Scacchiare Abbinare coppie Dai Inizia Giocatori Trasformare Questo lo vedremo più avanti Nel Voltron In teoria Rovescia i pezzi E abbinali Infatti nel Voltron Troveremo di nuovo Questo bellissimo Gioco Voi sapete già Più avanti Non tanto in teoria Dove stava questo? L'ho visto Ok Questo stava qui Questo Proviamo qui Perfetto E questo ovviamente E qui Round 1 Completato Continuiamo Ora siamo anche Contro una bella persona Possiamo anche Pecchiarci Che bello Con tre i supervisori Devo dirti che sei stato lento Dovrai essere più veloce Per fare il lavoro Di tutti quanti noi Che ne dici Di una bella sfida Per rendere tutto più interessante? Ok N'ho fatto uno io Lui ancora a zero Godo Ah Godo Ah questo 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 Godo Forse questo era No questo Sì L'ho fatta Facciamo l'anno tre Ah Ha fatto la prima Abbinazione Il primo abbinamento Che abbinazione Perfetto Secondo Terzo Oh Devecchio io Scemo Ah bravo Scemo Ah Lo scemo Non è più bravo Quindi Scemi Il bravo Lo scemo Ne facciamo Un altro round Questo qui È bello grande Come round Oh Neva Complicato Facciamo a caso Aspettate Aspettate No Dov'era È troppo difficile Questo Scusate Donna Ecco Ho fatto uno Insomma Uno a uno Ovviamente L'aveva fatto anche lui Uno Ah 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 Dove stava Quello Perfetto Ora Ha fatto qualcosa Con lui Bravo Ho fatto Con io Però Troviamo Una scimmia Troviamo Una scimmia L'avevo fatto Un altro Ho fatto Un momento C'è La scimmia Allora Dove stava Quello Ecco Perfetto Vediamo se la vinco Dai ce la posso fare Ma voglia che ce la posso fare L'ho detto eh Ok Ce la faccio Dai E se Direi che ce la faccio 18 a 10 Possiamo uscire adesso Come un gioco Scegliamo Un po' soccoso Che avete visto Nello scorso Scorso episodio Nel World True Eh niente Molto bello Anche se Il premio Non è molto bello Però Il premio Al contrario Cerchiamo Un bellissimo Ananocchio Bello Ananocchio Hashtag Ananocchio Ah Che pensavate Di fare No Perfetto Dai Questi due Ok Questi 5 6 No Il mio Ananaz 7 Continuiamo Andiamo Se vedete che Gloria C'ha tipo Il robo agli occhi Perché come ho detto all'inizio Questo non è il salvataggio Di World True È il mio salvataggio Personale Dove già ho finito Quasi il gioco Insomma Sono a un buon punto Non è che l'ho finita Ma Comunque Sono più avanti Del World True 1 E 2 Siamo a 5 Siamo alla Metà Dell'opera Come dice Quello di Halo Infinite Non ce l'ho fatta Uh Grazie 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 E grazie Dai Dai cambiamo gioco Adesso Molto Africa Arcade Partita rapida Scegliamo Gara dei tuffi No Perché non voglio Prendere il controllo Perché come sapete Sclero con la tastiera A fare tuffi Gliere coppie Gioco delle sedie Altrimenti Facciamo scatti Nella giungla Che io Sono scarsissimo Non riesco a fare un cavolo Però magari Metto facile Per vedere Se magari Ho un po' di fortuna Però Dubito Allora Iniziamo anche noi Muovendo Lui Ovvero Mortino Ok Non vi spiego Le regole Se volete Cercatelo un attimo Su Google Perché Non ho Voglio Sfiegarle Adesso Allora Ho fatto Solo Alex Si pare può saltare Sull'erba Muoviamolo No Pure Marty Mi pare Però Però ci conviene Spostare Alex Aspettate raga Ok Stia facendo una roba Spostiamo ancora Alex Lo fare così Ora Sfaltare L'erba Qui Andiamo avanti Adesso E' andato L'otto Mi sconfigge Adesso Muoviamoci Però Muoviamo Gloria Verso Verso Di qua Perché Altrimenti L'uno Può mangiare L'otto Allora Abbiamo Qui Julian Adesso Muoviamo Il nostro Caro Alex Andiamo Qui Nessuno Ci può Fremare Dai Da Facile Il 2 Può Mangiare Il 7 Mi è rimasto Un po' Male Sapete Allora Adesso Vado Di qui Così Una La vecchia Va lì Io faccio Così Mi muovo Gloria La faccio Andare Non qui Aspettare Qui Ora io Mi metto Qui Mi metto Qui Faccio Una Grande Filata Non ho sbagliato Quella Premere Affanculo Scusate Torniamo indietro E vabbè Qua perdiamo Ve l'ho detto Che non ci so Giocare Anche Ma Da Da Facile Posso Mangiarmelo E Capito Ma Il 2 Aveva Mangiato Il 7 Non aveva Senza Scusate Eh Vediamo il 2 Lo tengo Dall'altra parte Il 7 Mi ha mangiato Il 6 Il 7 Ma se io Adesso Ci metto Un bellotto Davanti Cosa farà Mi metto Qui Il 7 Se ne va Via Adesso Mi metto Qui Il 7 Si muove là Io Mi rimetto Qui Facciamo La stessa cosa Il 7 Mi mangia Il 3 Attenzione Può fregare Raga Mi sa che abbiamo perso Come frega Come frega Perché guardate Che fa Va là Ma gli rimane Un passo E vince Io non ce la faccio Ovviamente E il 2 Vince Bene Facciamoci un'altra partita Se non è facile Perché avevo capito Riproviamoci Anche se Insieme anche noi Muovendo l'1 Perché Sembra la mia Ormossa Muoviamo Le stesse personaggi Come in Olormo Hanno Hanno mosso il 6 Può anche io il 6 Mettiamo sto trucco Mettiamo sto L'8 A destra E anche noi lo facciamo Ora li copriamo L'1 Nell'erba Anche noi facciamo andare L'1 Nell'erba L'8 Là Anche noi facciamo andare L'8 Là Ora è impossibile Perdere Muovono il 7 Di 1 Anche noi muoviamo il 7 Lo muovono ancora Anche noi lo muoviamo Ancora Ancora Muovono il 2 Tutti qui Lo muoviamo pure noi Io sto Indietro Lo muoviamo Adesso Iniziamo questa cagata Muovono l'8 Qui L'8 Mi mangia il 7 Io mi mangio il 7 L'1 L'1 Me lo mette davanti Lì Io mi metto L'1 Qua davanti L'1 Mi mangia Io gli mangio Moto Moto Muovono il 6 Ma non mi stavo copiando malamente Muoviamo il 6 Il 6 mangia l'1 Il 6 mangia l'1 Il 6 va avanti Il 6 s'asserva No, ho capito, ci siamo fregati Non ci siamo fregati Come dicevo, ci siamo fregati Come dissi Che il 2 mi va Affanculo Ma il 2 mi ha mangiato il 6 Io ma col 2 non posso mangiare Quest'altro 6 Ma è taroccato Ma è taroccato Mi hanno dato un Un gioco taroccato Che è successo Andiamo avanti con Rico E se mi mangio il 2 Vabbè abbiamo perso Ma se mi danno il gioco taroccato Che devo fare Vabbè E hanno vinto Inutile Da mamma mi hanno dato il gioco taroccato Vabbè ragazzi Facciamo un altro gioco Poi ci fermiamo Facciamo Un gioco a cammino sono bravo Che ne so Lui è un volente Ma L'avete visto nell'episodo 10 Ditti di passaggio Questo Voglio essere Duba Il padre Il grande Alex Vediamo difficoltà difficile Menzionare cerchio 12 Più difficile di così Quanto ci mette? Sì ma a me non mi arriva niente A sto cerco di 12 Quindi C e Q Posso usare Ok Ma già siamo scampati L'arancio A quello di fronte Lì Su Lucchetti Della vita Allora Lo vedo io Oh Eh Esploso Faccio Tutto il tempo Mi ha voluto molto In modo spettacolare Vabbè dai ragazzi Così avete tutto Abbiamo giocato abbastanza Per cui si è piaciuto Lasciate like Discrivetevi al canale E Adesso siete qui Tutti altri temi Al prossimo video Ciao Ciao